Grazie al contributo economico concesso dalla Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna, con il patrocino del Comune di Ravenna e la collaborazione dell'ospedale privato Domus Nova, anche quest'anno i cittadini di Ravenna potranno usufruire delle visite dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma sviluppate dalla Fondazione Ant Italia Onlus. Queste giornate sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenna e di tutta la parte informativa che il Comune di Ravenna ci darà proprio per pubblicizzare questo tipo di impegno. Noi desideriamo e saranno estese a tutti coloro che desiderano effettuare un controllo di carattere dermatologico per verificare eventuali nevi sospetti che possono essere poi, da un punto di vista chirurgico, eliminati. È un programma di indagini di carattere dermatologico che noi ormai stiamo sviluppando da oltre dieci anni e abbiamo sviluppato più di 82.000 visite in Italia sotto questo aspetto. Diciamo che tutti i cittadini possono essere in qualche maniera coinvolti e interessati a questo tipo di indagine che è bene poi con una certa periodicità in qualche maniera ripetere nuovamente proprio per poter, nel caso non augurabile, comunque in ogni caso identificare precocemente la malattia che in questa situazione qui può essere combattuta e si può vincere. Quindi diventa fondamentale un'analisi per corte? Sì, direi di sì, proprio in questo caso specifico, in generale diciamo la prevenzione oncologica, ma in questo caso specifico diciamo che vi sono altissime percentuali di successo e di eliminazione di quella che può essere l'insorgenza tumorale.